C'è stato il piacere di sapere l'Adda da 2009, quindi nella mia capacità personalizzata, ma anche come assemblee parlamentarica, siamo stati associati a questo evento per i ultimi 13 anni. E vedo che la storia dell'Adda è molto lunga, inizia 18 anni fa. Con la mia esperienza, credo che l'Adda è diventato il foro più importante umanitario per questa regione e per l'Europa, che abbiamo mai visto in grado di un forum tradizionale tradizionale. È davvero qualcosa che porta insieme a quelli che decidono, a quelli che prendono actione, la società civile, e un ottimo punto di incontro per le partenze pubblici e privati, ma anche per il mondo di assistenza umanitariale all'interno. In un paese come l'Adda, la discussione è open, abbiamo incontrato molti persone, abbiamo mobilizzato l'aide umanitariale, e continuiamo a fare così. E per un'organizzazione come la Assemblea parlamentarica, siamo arrivati con molti parlamentari. tre giorni fa, abbiamo finito la nostra sessione plenaria con 200 delegati da tutta l'Europa, la Mediterranea e la regione del Golfo. e io posso dirvi che, nel spirito dell'Adda, ma direi di più, anche nel spirito dell'Ostria, dell'Unione dell'Arabia, qui avevamo la possibilità di parlare molto francamente, di parlare molto chiaramente, secondo la Resoluzione dell'Unione Generale. C'è un agressor, c'è un paese che è stato attaccato. In questo modo, torniamoci tutti i principali che abbiamo inscriviti. E noi lavoriamo insieme per un futuro migliore e per aiutare ogni uomo, ogni figlio, ogni persona che necessita di aiutare, in qualsiasi sono nel mondo. Grazie molto.